Questo video riguarda i migliori tre motozappe. Il vincitore della qualità è la Einel 343. Con la zappatrice a batteria GCR30 li solo di Einel, orti o aiuole possono essere vangati e dissodati in modo comodo e senza fili, preparandoli così per un'ulteriore coltivazione. La fornitura si intende senza batteria e senza caricabatteria. Tuttavia, la dotazione include uno sperone del freno retrattile e una protezione della lama. Con una profondità di lavoro di 20 cm, le quattro robuste frese di alta qualità dissodano anche il terreno ricco di argilla e pesante senza molto sforzo. Grazie all'impugnatura di guida pieghevole, la zappatrice può essere riposta in modo da risparmiare spazio. L'interruttore di sicurezza a due punti impedisce l'avvio involontario della zappatrice o l'uso non autorizzato, ad esempio da parte dei bambini. Le ruote per trasferimenti regolabili in altezza garantiscono un trasporto senza sforzo, una guida confortevole e poca fatica durante il lavoro. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il generic moto zappa. 1500 W motore in rame associato a una velocità fino a 380 RPM. Con la potente lama 6 PCS adatta. Ciò si traduce una coppia maggiore e fornisce un migliore scavo e allentamento del terreno. La macchina è dotata di 6 otente lame. Larghezza di lavoro massima di 45 cm. Inoltre è possibile rimuovere le due lame accanto per ridurre la larghezza di lavoro. Solo 10,2 kg è più leggere rispetto a quelle a benzina e sono ottime per la manutenzione del giardino. L'impugnatura guida ergonomica con sistema antivibrante può ridurre efficacemente l'affaticamento del braccio, anche può essere piegata per risparmiare spazio. La macchina è dotata di doppi interruttori di sicurezza. Con la protezione da sovraccarico, la macchina smetterà automente di funzionare dopo il blocco o sul riscaldamento per evitare i danni. I materiali utilizzati, il suo design e le sue caratteristiche, rendono TGT L01 a MotoZappa uno strumento per la coltivazione di altissima qualità che non può assolutamente mancare per gli appassionati della coltivazione e per chi ama creare orti nei propri spazi esterni. Il vincitore del premio è il Generic MotoZappa. Grazie al suo peso inferiore a 12,2 kg, hai più mobilità per il tuo lavoro quotidiano, il suo manubrio ergonomico e pieghevole con un sistema antivibrazione può ridurre efficacemente l'affaticamento delle braccia. La sua maniglia pieghevole non solo può darti l'angolo di funzionamento più comodo per la tua altezza, ma anche farti risparmiare spazio di stoccaggio e garantire che sia pulito e ordinato. Motore in rame da 1400W combinato con una velocità fino a 400 RPM. Questo rende facile coltivare giardini e aiuole da piccoli a grandi. 6 frese in acciaio al manganese ti danno un'efficienza di lavoro e una durata extra. Arresto immediato del freno in meno di 0,2 secondi in caso di Malfuns. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.